Vedete? Nei quartieri usano mettere praticamente tipo una lapide, una roccia, ecco tu sei più romantica. FileTech e Gaelico significa benvenuti a BlackRock. Questo è i fagioli, le salsicce, il bacon, ci sta l'uovo, questo dovrebbe essere tipo sangue di maiale, una cosa prelibatissima, buonissima. Il pomodoro e questo è qualcosa che ci vuole praticamente. Tè e caffè. Questa è una colazione irlandese. Buon appetito! Come notavamo prima, come notavamo prima, dicevamo, praticamente qua è incredibile perché no, non c'è, non c'è neanche un rifiuto per terra. È una cosa allucinante, allucinante, vero? È pulitissima, non mi sembra vero, non trovi niente, trovi solo conchiglie e basta. Conchiglie e basta? Tutte colorate, bellissime, non trovi niente, non trovi bottiglie di plastica, non trovi tutte cose che troviamo da non Italia. La meraviglia di questo video è la pulizia e il rispetto dell'ambiente che hanno veramente questo popolo, è fantastico. Questo video lo dedichiamo a Lessio Felicioni, che sicuramente apprezzerà la qualità della ripresa, soprattutto della ripresa stabile. Sicuramente in questo momento sarà una ripresa iperstabile. Immagino una mano sola che lo regge, che ora mi si casca per quando mi fa male. Ci farei complimenti. Sicuramente, veramente un bel video pieno di contenuti emozionanti e poi niente, praticamente poi andiamo a farci una birra stasera, quindi non vi facciamo vedere quello che faremo oggi pomeriggio perché sono fatti nostri, giusto amore? Ninja, tosta, aspettiamo l'auto qui so adesso, qui la tosta? Siamo in difficoltà. Sì. Siamo un po' in difficoltà. Io no, io sono in perfetta forma. Eh sì. Smagliante, guarda. Sì. 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 Un saluto e buona Sera. Ciao. Sì. Buona Sera. Ciao mamma colere. Ass� lattio...